Ladri rubano i soldi destinati agli anziani in difficoltà, le donazioni per la ristrutturazione dei riscaldamenti in cattedrale e altre somme ed oggetti di proprietà delle suore. È accaduto a Sant'Angelo dei Lombardi, la casa della comunità religiosa delle suore oblate di Gesù e Maria, che comprende anche la scuola materna, è stata visitata dai ladri. La notizia è stata resa nota ieri dal parroco Don Piero Fulchini al termine della Santa Messe. A raccontare tutto in una nota è stato toni lucido. Suor Consolata Franciosi e suore Melenziana Vella, originale di Monteverde, nel far rientro dalla cattedrale dopo aver partecipato all'azione liturgica, hanno fatto la mara scoperta. I ladri hanno cercato oggetti di valore nel reliquiario, nelle stanze per gli ospite e negli alloggi delle suore. Hanno portato via, tra le varie cose, somme di denaro raccolte per curare iniziativi a favore degli anziani e alcune piccole donazioni per la ristrutturazione dei riscaldamenti. Sul grave episodio ci sono delle indagini in corso e si controllano i firmati delle telecamere presenti in tutta la zona. La stima, l'affetto, la riconoscenza per quanto fanno le suore oblate a Sant'Angelo dei Lombardi sono motivo di rispetto, certezza di immunità, ma purtroppo non è stato così, scrive Toni Lucido. Al momento non è dato sapere se sia stata l'azione messa in atto da qualche giovane sbandato, da Balordi, oppure un gesto che si inserisce in un contesto di una serie di furti che vengono segnalati su tutto il territorio. Il presidente della Proloquo auspica maggiore vigilanza sul territorio, controllo sulle tante presenze, e sarebbe opportuno una maggiore vigilanza sociale del territorio da parte degli stessi cittadini. Questo potrebbe aiutare a ripristinare la condizione del vivere sereni in una comunità.